Siamo con Antonio Longo, consigliere comunale, siamo qui davanti a una nostra vecchia conoscenza, un bilone che abbiamo segnalato e che è stato sversato quanti giorni fa più o meno? Circa 70 giorni fa, 69 giorni con la precisione, 69 giorni fa siamo a Pianura in via Monti, precisamente via del Collettore dove qualche criminale ha sversato questo bilone pieno di solventi che emana esalazioni irrespirabili e adesso siamo con gli operatori, la SIA, la ditta incaricata, ci abbiamo messo tutti questi giorni perché l'appalto di recupero materiali speciali era esaurito e quindi abbiamo dovuto fare il nuovo appalto, in questi 60 giorni abbiamo provveduto a rinnovare l'appalto alla ditta e adesso devono arrivare a un altro mezzo per prelevare questo contenitore che è abbastanza pericoloso. Quindi ritorno ancora a ribadire che i cittadini devono collaborare, devono segnalare, qualora è possibile, in tutto mantenendo l'anonimato magari sulla mia posta comunale antonio.luongo.chioccialacomune.napoli.it eventuali segnalazioni di targhe, mezzi, fotografie che noi provvederemo a verificare e a reprimere i criminali che fanno questi guai. Prima infatti mi facevi vedere i primi risultati di questa azione alla parte dei cittadini, giusto? C'è stato in questi giorni proprio sulla zona dei Pisani dove abbiamo un fenomeno del sacchetto pendolare che i cittadini di quarto, quindi comune limitrofo ai Pisani, effettuano una raccolta porta a porta e vengono a scaricare a contrata Pisani il loro pattume, la loro immondizia. E quindi rispetto a questa cosa noi stiamo facendo un'intensa attività di repressione del fenomeno e trovando anche soluzioni alternative da mettere in campo per evitare tutto ciò. Diciamo che non solo più le persone sono pendolari ma ora anche i sacchetti. Anche il sacchetto pendolare, ecco questa è una cosa che succede in questa città e succede spesse volte con i comuni limitrofi alla città di Napoli. Fortunatamente i cittadini stanno collaborando, i cittadini dei Pisani, con delle segnalazioni circostanziate e noi stiamo appunto perseguendo quelle persone che fanno questi reati di sversamento a tutte le ore e anche materiali tossici. Diciamo che prima mi parlavi di nuove iniziative anche per quanto riguarda l'utilizzo proprio di nuove forme di comunicazione anche nei confronti, non dico degli sversamenti ma per poter permettere ai cittadini di poter raccogliere meglio e anche gestire meglio i propri rifiuti. Sì, diciamo pensiamo a delle isole ecologiche studiate ad hoc su questi territori di frontiera dove i cittadini possono conferire, quindi eliminando i contenitori stradali in modo che non invogliamo coloro che non operano le proprie comuni di appartenenza la raccolta differenziata e quindi il fenomeno potrebbe essere più controllato. Questa è una delle azioni che stiamo mettendo in campo.